Il distintivo dei Guardiani ha raggiunto il 30% del crowdfunding il che significa che sono riuscito attraverso l'aiuto delle persone che mi stanno supportando a raggiungere la quota 60 libri devo questo ringraziamento a tutti quanti ma nello specifico, pochi minuti fa, qualche minuto fa, diciamo una mezz'oretta fa devo il ringraziamento di raggiungimento del 30% a due persone che sono Erika e Vittorio loro sanno chi sono e anche voi forse qualcuno li conosce ovviamente il 30% è un obiettivo indicativo che comunque mi rincuora perché uno veda circa un terzo andato a buon fine e siamo giusto a 10 giorni quindi mi fa ben sperare volevo però cogliere l'occasione di questo video perché scrivendo e parlando con alcune persone io mi rendo conto che non sono stato bravo a comunicare la mia necessità la mia necessità non è solo quella di raggiungere le 200 copie ma anche di dimostrare alla casetitrice che ci sia un interesse verso il mio libro in quella che è la mia viene chiamata in germine tecnico la fanbase ovvero le persone che ti seguono e che ti sono diciamo più vicine che ovviamente per un esordiente o comunque per una persona che non ha canali social ampi sono alla fine amici e parenti quindi il mio obiettivo è sicuramente arrivare a 200 copie ma non è solamente quello cioè nel senso non è che se 10 persone comprano 10 libri io ho fatto 100 copie e quindi sono quasi in zona salvezza considerando che me ne mancano circa 140 ma il mio obiettivo è anche quello di dimostrare alla casetitrice che c'è comunque dietro al mio racconto, alla mia storia un movimento di persone per quanto possano essere amici e parenti comunque disposte a credere in me perché se non comincia diciamo l'amicizia e la parentela a credere in te la casetitrice giustamente dice come possiamo sperare che il resto del mondo creda in te quindi volevo giusto precisare questo che ovviamente l'aiuto è importantissimo per rendere questo mio sogno realtà e che ho bisogno proprio fisicamente di quante più persone possano scegliere di darmi una mano dando così dimostrazione che non sono solo intanto ringrazio Erika e Vittorio che mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo del 30% quando arriverò al 50% farò un ringraziamento specifico delle singole persone che mi avranno portato al 50% ma ovviamente dietro di loro ci sono tutte le persone che invece hanno fatto sì che si arrivi al 50% come ci sono dietro questo 30% circa 50-55 persone che si sono fatte in fronte del carico, del costo, del libro però comunque di supportarmi e quindi si è arrivato a questo bellissimo traguardo che ora vi mostro eccolo lì 30% ringrazio tutti quanti e spero che questo video possa essere di sprono e soprattutto di supporto per questo mio piccolo grandissimo desiderio grazie grazie grazie